confetti max stress con te nel giorno più bello confetti max stress punto it centinaia e centinaia di provine trentadue sono rimasti e inseguono il sogno di avere la loro occasione benvenuti alla prima puntata di dammi un'occasione ed ecco gli magnifici cinque che sceglieranno i dieci che continueranno questa avventura con Marco Calone, Nenzi Coppola, Stefania Lai, Giudia Tanavio, Enrico Femiano e poi c'è il mio amico di sempre Fabio Bressa, figlia radiofonico nostra rita spagnoleggiante stamattina io mi collego con Solimar Viaggi per delle deliziose offerte natalizie e abbiamo anche un codice oggi, vero? Luna 10, giusto Gianfranco? Aiutami, Luna 10? Ok. Perché? Perché chi prenotano, ce lo spiega bene la nostra amica Marianna, buongiorno Marianna, chi prenota con questo codice ha un ulteriore sconto, vero Marianna? Ciao Ciro, buongiorno come stai? Come stai? Bene 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 siamo al lavoro, nonostante il tempo e nonostante però che stai per partire un'altra volta, diciamolo. Ma dai, patto per cose diverse. Eh, però sempre parti e quindi è sempre bello. Come stai? Se bene? Ci racconti di Natale? Sì, allora, mi collego a quello che appena detto tu per questo codice sconto che lanciamo oggi in occasione di questa puntata. Il codice appunto, come dicevi tu, è Luna 10, quindi tutti gli spettatori di Luna Mattina che ci contatteranno facendo presente che hanno raccolto questo codice durante la trasmissione avranno un 10% extra non solo sulle promozioni che presentiamo oggi ma su tutta la programmazione e quindi qualsiasi cosa prenoteranno avranno un ulteriore sconto di 10%. Mi raccomando vale solo per chi avrà visto la trasmissione. Certo, certo. Dove ci porti stamattina? Chi parla per primo? Parli sempre tu? Oggi diamo la parola a Simone e poi dopo ci sarà Andrea e ci porteranno, ci proietteranno le vacanze, quindi Natale e Capodanno. Andiamo, andiamo, andiamo da Simone allora. Ciao Ciro, buongiorno. Buongiorno Simone, che ci proponi? E oggi come anticipato già da Marianna abbiamo preparato delle offerte per coloro che voressero trascorrere le vacanze fuori casa e partiamo proprio dalla Campania con 23-26 dicembre, quindi tre notti, in un Futura Club, il Futura Club è Lea Mare, struttura praticamente nuova, quindi super moderna, che dà la possibilità di trascorrere questi tre giorni di Natale nella loro struttura in pensione completa con bevande incluse al prezzo di 345 euro, quindi prezzo finito che comprende tutto. Molto meno di una spesa di di Senoni e feste varie, quindi un ottimo prezzo, 345 euro. Sì, passando invece a Capodanno, passando invece a Capodanno, quindi 30 primo gennaio, restando sempre qui in Campania c'è il Country House Loasi del Fauno, una struttura a Casalvelino che offre la possibilità di trascorrere le due notti di Capodanno al prezzo di 275 euro, c'è non è incluso, quindi praticamente un regalo. Assolutamente sì, complimenti, complimenti, ma ce li regalate voi questi viaggi, quindi approfittatene, amici di una mattina. Simone, tu è finito, passiamo ad Andrea? No, io ho un'ultima offerta, un'ultima offerta, però in questo caso ci spostiamo all'estero, ci spostiamo a Charme Shake, 22 e 30 dicembre, quindi la possibilità di trascurere Natale al caldo all'Atelier Club Concorde Salam, al prezzo di 999 euro a persona, si hanno sette notti in Ardol inclusive, il volo, i trasferimenti e l'assicurazione, quindi tutto al prezzo di 999 euro a persona. E anche questo non è male e se volete poi trascorrere anche il Capodanno vi trovano anche la soluzione per allungare anche qualche giornata, giusto? Simon? Siamo pronti a tutto, no? Quindi va bene così. Grazie, vado ad Andrea. Eccomi Ciro, buongiorno. Buongiorno, come stai Andrea, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Dicci tutto, dove ci porti? Parliamo in questo caso di un'offerta di Roccaraso, albergo del sole dal 28 dicembre al 2 gennaio, in mezza pensione però con, come è scritto sulla locandina, il cenone è incluso, il cenone di Capodanno quindi del 31 sera è incluso. È una struttura appunto che si trova a Roccaraso, quindi si spera di beccare anche un po' di neve e quindi divertimento assicurato, sia con l'intratterimento della struttura e si spera della... 490 euro a persona, niente male anche qui. 490 euro a persona, e sono più notti quindi... Poi ci mettiamo anche il codice sconto, quindi insomma un ulteriore sconto è anche possibile averlo. Poi Andrea? Certo, poi abbiamo la crociera di Capodanno, con il pacchetto bevande incluse a 1150 euro a persona. Il prezzo è finito, quote di servizio incluse, tasse incluse e assicurazione medico bagaglia annullamento e covid inclusa. Non parliamo di nuovo della crociera perché ovviamente è quello che ci siamo detti già nelle scorse puntate. MSC che poi è una garanzia e quindi anche molto bella questa cosa qui. Altro oppure torno dalla BOS? Torniamo dalla BOS. Vai BOS. Marianna, ecco lui, Andrea l'ha accennato, il discorso assicurazioni e quanto è importante in questo periodo. Ce lo rispieghi perché è sempre bene ricordarlo ai nostri telespettatori? Certo, certo. Ricordiamo a tutti che tutti i pacchetti che noi offriamo sono sempre inclusi di polizza, di polizza assicurativa, diciamo assicurazione sia medica sia annullamento. Quindi i clienti, soprattutto vale per quelli che vanno all'estero ma anche in Italia, sono assicurati. qualsiasi cosa gli dovesse capitare, c'è il pronto intervento medico, c'è l'assistenza sia telefonica che sul posto e inoltre c'è l'assicurazione annullamento. Ciò significa che se il cliente fino al giorno stesso della partenza per un motivo certificabile dovesse decidere di annullare, ci porta tutto l'incartamento, seguiamo noi la pratica e poi il cliente avrà direttamente dall'assicurazione il rimborso. E questo, come dicevi tu, in questo momento è veramente importante. Con Solimar viaggi siamo veramente in una botte di ferro, come si suol dire, giusto? Certo. Viaggio a buona giornata. Ciao Meri, ciao Fimone, ciao Andrea. Confetti Max Stress, con te nel giorno più bello. Confetti Max Stress punto it Centinaia e centinaia di provinsi, 32 sono rimasti e inseguono il sogno di avere la loro occasione. Benvenuti alla prima puntata di Dammi un'occasione! Ed ecco i magnifici 5 che sceglieranno i 10 che continueranno questa avventura. Marco Calone, Nenzi Coppola, Stefania Lai, Zuzia Tanavio, Enrico Feniano e poi c'è il mio amico di sempre, Fabio Bressa, il PIG Radiofonico.